Gianni Regalzi, Shoah, per non dimenticare. C'è freddo, tanto freddo, in questo inferno, volti scavati, membra come legno. D'ogni speranza gli occhi ormai privati si specchiano in altri occhi, senza luce, un appaiar di lupi, un urlo, un pianto, ed eccomi schierato nella neve, vestito solamente di dolore, a attendere che un altro giorno muoia. Per ore, ore ed ore ad aspettare, che mai nessuno nomini quei segni che bruciano di numeri il mio braccio. Passa un carretto carico di larve, spente reliquie, ingrovigliate membra. Anche per oggi il pianto mi divora, intanto da quel fumo urla il silenzio. Dio, 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 chiedici perdono. Alessandria, 27 gennaio 2014 14. 14. 15-14. 16-14 5-14 18-17 17-14 18-14 blasto 18-15 With Indibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib currentsordищ bertambi Grazie a tutti